Adesso lei mi deve spiegare una cosa, no? La volta scorsa quest'uomo era schiacciato qua sotto Com'è che adesso hai in piedi? Aaaaaah Comunque raga, bentornati, siamo qui oggi su Tabs Io la vedo già partito subito col piede di guerra C'è vedo templari, c'è i capacultieri Vedo che quest'oggi vedremo un sacco di sangue Quindi, molto sangue, molto sangue Signori, bentornati sul canale e soprattutto ragazzuoli Oggi io spero potrete accompagnarci in questa bellicosa partita a Tabs Mi raccomando, con un bel mi piace che è importantissimo O magari con un commento sotto, considero la falce Presumo lei quest'oggi vada a falciare qualche templare, presumo Assolutamente sì, allora ho fatto una cosa un po' a caso Perché volevo partire così Io ho fatto a caso! Ho fatto partire il coso a caso! Signori, mi raccomando Iscrivetevi al canale e attivate la campanella Per essere aggiornati nei prossimi video Altrimenti verrete attaccati dai corvi Come è successo per questi spaventapasseri molesti Che hanno tipo l'onderosarica di corvi Vedo dei maghi là in fronte, dottore Quindi secondo me va a finire male Ci sono dei maghi? Eh, presumo di sì È un sacerdote! È padre storpi No, cos'è? Padre strabico Sono dei frati Io allora ci sono una marea di frati E c'è il re Madonna, che barba Che c'è il re, che potenza Sembra un merluzzo Potrebbe finire male Ragazzi di pieno tank Ok C'è qualcuno che lancia le cose? Magari Che potrebbe... Eh, beh! Il poisoniere mi fa schifo Non mi piace Non mi serve a niente Sto guardando che i forconieri Secondo me prendono delle stangate Dottore, ci provi Formazione piuttosto scomoda Io ci credo un sacco Nel mentre ragazzi Commentate sotto con delle emoji Delle forchette Per tipo in onore dei nostri forchettieri Come possiamo chiamare I forconieri Allora, ci siamo Va Cosa fa? Li sta buffando No, ma cura il re No, no, no Ma curano il re quei cosi lì Però non possono nulla Contro i ragazzi di fieno E contro il coso Cosa fanno? Ma guardi gli schercro Cosa stanno facendo sti cosi qua? Eh, si stanno curando a vicenda Allora, è bellissimo Perché loro non possono fare niente Finiti i target da curare Si curano tra di loro Lo spaventapasseri È sbroccato È sbroccato il tiracorvi Cioè, stava per lanciare il corvo Sì Ma vabbè Ma guardatelo Sì, quanto è bello il corvo Ma scusatemelo Siamo in Grecia Gli ateniesi Gli spartani Non lo so Sono questi qua comunque Buongiorno Sono gli scatolati Sono più ateniesi Cioè, li vedi dalla faccia Vediamo un attimo cosa possiamo usare stavolta Perché abbiamo cambiato fazione Sì Allora, noi dobbiamo rompere le difese Quindi catapulte Secondo me non è abbastanza Quando selezioni la catapulta Senti dei versi che sono incredibili Ne metto una qua Devo dire che Non è una strategia proprio bella Sì, Fidi Io Cioè, voglio solo mostrarle Voglio solo mostrarle Quanto è fiducioso Sto templare È preoccupatissimo Di che dice Adesso vado al macero Cioè, contro queste cose qua No, dottore Contro sti qua Lei sarebbe preoccupato Se fosse coperto Da dei tizi del genere Ma stiamo scherzando Ma guarda Dottore, mi fa una di quelle porcate Stia a vedere Oh, se mi manca la mira Lei è un asino, eh La fa Eh, l'ha fatto bloccare contro la casa L'ha messo giù male Vedi che vedi che stia Ma no Deve coprirlo Va a finire male Spara Spara, disgraziato Ha funzionato per il momento Ok, dottore Però, altra domandina di riserva Ma gli altri dove sono? Domandina di riserva Eh Quando ci metto a spara No C'è il suo amico lì L'ha mancato Spara L'ha mancato Non ce la fa secondo me O forse ce la fa No Amico Spara Guardi, come si è messo Cosa sta facendo Cioè, ma No, ha perso No Non ci È perché si è suicidato Però mi dica lei Che stratega sono Potrei mettere a sto punto Visto che non sono capaci Di fare niente Sti cosi qua Io andrei con un po' di arceni Ma lei è sicuro? Vada Dietro la pulta Un menestrello Ma cosa serve? Un menestrello non serve a niente Dottore E mettiamo un altro Lei deve avere un po' di fiducia Dottore, questa è la God Squad Ci guardi? Ma che si fiderebbe Ma guarda, dottore Ma guarda che penno Ma sei mai una porcheria Spara Mamma mia Cioè, già fatti fuori? No, ma scusami un attimo Ma lì si ammazza Si ammazza No Non spari Si ammazza lei Io gliel'avevo detto Cosa fate? Eh, si sono incastrati Dottore, però le difese Sono distrutte Avanti Grecia è nostra È quasi Dottore, ce l'ha quasi fatta? Cioè, se non si incastrava nel buco Ce l'aveva fatta Si stanno riproducendo Ma cosa fanno? Ma che stanno sparando? È venuto un ingorgo Aspetterebbe Le sentisse la canzone Che stanno suonando Lei con una compagnia La sente? Ma basta Non ci passa È trenino Store, deve evitare Che si incastrano Secondo me Deve evitare Lui di incastrarsi là sotto Allora, è meglio Mettere magari Qualche guerriero Anche dall'altra parte Dice Questo, ok Non si blocchi adesso Non si blocchi Faccia le cose Bravo che si è fermato prima Spari Spari adesso Si è fermato bene stavolta Ok Adesso è stato bravo Non è neanche morto Si inchioda Si sta inchiodando Dottore No, è ancora vivo Adesso li fa fuori Insomma, li avrebbe fatti fuori Che sta facendo? Si è incastrato Ma ancora E li inforcano Dottore Dai, c'è un glitch A caso No, gli arcieri Guarda che colpo Guarda che colpo Guarda È il Guglielmo Tell delle cose Vedete aggiungere i menestrelli Cosa vuol dire Non servivano a niente i menestrelli Dottore Erano di vitale importanza Stia zitto Lei ascolta le mie strategie E lei vince sempre Allora Facci vedere il menù Questi sono spartani Sono un po' arrabbiati anche Allora abbiamo Leonida in persona Molto bene E abbiamo uno qua dietro Che è un po' storto Dottore Allora, io direi Che una catapulta è d'obbligo Una qui e una Qui Ho due Sì, sì Qua bisogna farli fuori così Altrimenti sono portati Due guerrieri Uno da una parte Stricciassero con la catapulta No, no Ok Attenzione Cioè, no Questo è easy Questo è easy veramente un sacco Cioè, questi catapultieri Sono fortissimi Cosa fa? Ma no C'hai quelli lì in fondo Pazzo Sei un pazzo Un pazzo ma bravo Perché ha rimbalzato E' andato contro quegli altri Quindi va benissimo Ma la catapulta è illegale Cioè, pro Ma la catapulta è illegale Dottore Fa tutto da solo Non deve far niente lei Allora I prossimi sono Siamo di un'antica Ma quella è la balestra È la ballista questa Eh, ma i poveri Gli hanno un po' di morbo loro Eh, ci sono così Dobbiamo farli fuori Molto fast Cavaliere qua dietro E qualche arciere qua Vedrà che roba verrà fuori E anche un menestrello Prevedo guai No, perché adesso Le balliste Guardi Guardi Adesso le balliste Punteranno il tipo Vedi? E lo fanno fuori Adesso però Avremo la cosa libera Dove scappa lei? Vada Vada Insomma Signor menestre Lei sarà un po' Da notare Che il guerriero Che costa tipo 400 Ecco Il mio piano era questo Fantastico Loro mobavano E quello faccia fuor tutto Cioè Il guerriero che costava 400 È morto Mentre il menestrello Era ancora vivo E che costa tipo solo 60 Quindi il menestrello Maggiore di guerriero E il minotauro Quello è un pochino stanco Si vede che deve andare a dormire Vede che c'è proprio la destra Sulle spalle Che non si regge in piedi Cavalieri Dopodiché Arcieri Tanti arci Esatto Esatto Lei proprio ha capito la mia strategia Una roba del genere Un menestrellino L'avrei messo io Che sono belli Insomma Fanno un po' di cosa Sinceramente sì Un menestrello ci stava Io spero solo che non faccia la carica Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo No Mi lasci stare gli arcieri Me li molli Un toro Mi sc***a gli arcieri Cosa fa Mi molli l'arciere Accoppattelo Guarda l'elice Ma cos'è sta stozzata Ma guardi sti poveracci Uno si è liberato La Grecia è nostra Minosse vai a fare in c***o Guarda Questa è la vera lotta Con il minotauro Altro che Noi Cioè ma Mi scusi un attimo Ma che duello epico è stato Guarda Dottore è stato un matador Devo dire che è stato proprio bravo Guarda quando attacca la faccia che fa Dottore ha vinto Questa è la vera storia della Grecia Dei miti greci E del minotauro Delle cose Cioè canale di cultura ormai Siamo arrivati nel paese dei ghiacci Quindi adesso potremo utilizzare Attenzione La roba spartana La roba greca La roba medievale Allora Voglio vedere cosa abbiamo qua Mi dica C'è anche Zeus Come c'è anche Zeus C'è anche Zeus Allora lo usiamo subito Sono i vichinghi Dottore Sì 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 Ma magari che treccia che hanno come barba Eh hanno un po' freddo Vede che questo qua c'ha la cervicale Innanzitutto Ci serviremo Del potere di Zeus Orca che barba Dottore È proprio bello È belloccio Zeus Raga un pollicione super Zeus Perché lo merita Zeus deve essere coperto Scudieri qua Arcieri Spara serpenti Cosa vuol dire Spara serpenti Spara serpenti Un arciere che tira i serpenti Dottore Come ti ristro Ma no che non li ho visti Sparare i serpenti Buona fortuna Non ci credo neanche un po' Comunque Vediamo cosa ci tirano fuori Io spero solo che Zeus Non ha tanti suoi Zeus È un'era rimasto congelato Zeus Non contro i tuoi Devi sparare i nemici Zeus sei un asino Non c'ha neanche voglia Guarda Zeus come colpisce a caso Signor Zeus Lei è un asino Lei mi fa perdere La prima cosa di oggi Ma lancia bisce quello Ma si è fermato Eh l'ha congelato Ma cosa Eh dottore è capitato Dai oh ne manca tre Zeus Sta recuperando Oh Zeus No Dai Un'altra biscia Signor serpente lo uccida Signor serpente Lo mangi Ma è un pila biscia dottore Vai se è pericoloso sto serpente Zeus Mi ha beccato le palle Aia Dai che lo castrate Poveraccio Guardi guardi che roba Ma che biscia è Ma cos'è Ma quanto mi ricordo Guarda che serpente Dov'è Signor serpente Dov'è finito È morto Zeus sei inutile Se non fosse stato per Il lancio serpenti Saremmo stati fottuti Che arco c'ha È un serpente No è fantastico Adesso chi ha contro Mi faccio vedere L'uomo l'orso L'uomo l'orso L'uomo tasso No l'uomo l'orso Ok L'uomo l'orso con l'ascia Lancia bisce dottore Lancia i serpenti No perché hanno lo scudo Non mi fiderei Il prende da dietro il serpente Vedi che lei lo lancia dietro L'uomo l'ascia di dietro L'uomo l'ascia di dietro L'uomo l'ascia di dietro Lei delle volte mi fa un po' un asino Ma che asino Dove va Proceda Dottore Presumo questa sia la god squad Cioè non può perdere adesso Guardi le bisce Dottore Ma sono infernali i serpenti Ma fanno tutti i serpenti Fate fuori l'uomo l'uomo l'orso Sparate L'uomo 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 l Serpenti, fate qualcosa Serpenti La ballista, ci vuole la ballista C'è ancora una di ballista C'è un serpente Aspetta, se la ballista spara li prende entrambi Sta caricando, carica Vai, vai, vai Ok, ok Sì Il serpente, il serpente, guardalo Guardalo, gli ha morso le palle, il serpente Mamma mia Non so cosa dire, quest'oggi Napoleone si piega L'è 90 con la grandissima vacca di sua madre Truppa del giorno I lanciabisce, dottore I lanciabisce, i serpenti sono un po' di pazzesco In questo caso abbiamo dei cosi un po' fastidiosi Quindi io farei una cosa del genere Lancia serpenti in questo modo Così cattiva però, eh Dopodiché ci mettiamo Dei protettori, deve proteggere la ballista, dottore Deve proteggere la ballista Il minotauro che mi arriva subito sugli arcieri Dottore, protegga la ballista però Così in te ho riesto in diretta da Dio Guarda i serpenti, che casino che fanno Minotauro, devi andare contro i cosi tu Non contro questi qua, contro quelli dietro Minotauro, lei fa una brutta fine La ballista È perché li mobba, vede È morto Quanti serpenti ci sono? No, veramente Truppa sbroccata Lancia serpenti Spari! Mi fa fuori lancia bisce Guardi, guardi Cosa posso sparare nel 2019? I serpenti Prendo un arco Tiro un serpente e lo sparo E questo cosa fa? Mi fa vincere tutte le guerre del mondo Allora Oh no Però mi spieghi una cosa Per quale motivo? È perché presumo che gli lanci la barca Se ci buttassero sopra dei serpenti Seguiamo il suo consiglio Mettiamo questo qua La ballista dietro Diretta che proprio questo è un suicida Tanto mi ci arriva subito Dopodiché, dottore Dei spara serpenti Proprio serpenti come se non ci fossero domani Vediamo cosa succede Vediamo Guardi Adesso Le lanciano Le lanciano Cosa fanno? Ma si sono suicidati praticamente Cosa hanno fatto? Come si muovono? Sembrano dei lombrichi Guarda che li stritolano Ma cosa sto vedendo? No ma stiamo scherzando Cioè Ma stiamo Ma io vincendo Ma stiamo vincendo sempre quest'oggi Ma stiamo scherzando È la truppa più forte Penso Ci sono troppo forti i tiraserpenti E costano niente Come mia madre Allora la prima sezione è completata Abbiamo la seconda Che prevede di nuovo gli indigeni Ma c'è una differenza Sono sugli alberi Tutti i lanci serpenti Io sono innamorato dei lanci serpenti Bastano solo quelli Vai via Non serve nient'altro Via Sparati i serpenti Serpenti Guardali Serpenti Ma si picchiano tra di loro Magari cerca di colpire i serpenti Invece si colpiscono loro Colpite Bravo Mangiatelo Ma sono morti tutto Vabbè Guardi i serpenti No ma stiamo scherzando Allora Qua c'è una mucchiata Di ragazzi di fieno Da notare Che se lei guarda dall'alto È un forcone Che prende una balla di fieno Sì Ci ha capito un po' Farm art No Sparati i serpenti Veloci Si meno tra di loro anche Guardali È perché c'erano di colpire i serpenti Invece si auto-infligono dei danni Secondo me va a finire male Però stavolta Povretto Sto difessore No sono forti i serpenti Guardali che roba Ho volato Visto il serpente volare per aria Sparati i serpenti No i ragazzi di fieno Sono troppo forti Secondo me va a finire male No Serpenti Sparati i serpenti Sparati i serpenti Quattro aspettate Serpenti Dov'è uno sparare Cosa fa là in fondo il serpente Allora il ragazzo di fieno È troppo resistente Il ragazzo di fieno Abbiamo sottovaluato il ragazzo di fieno Ci vuole una bella ballista cattiva Che fa fuori un po' tutti Una qui E una qui Dopodiché Sembra serpenti È un menestrello Se lo mette Ma cosa serve Ma condisce Dai dottor Un menestrello ci sta Ma metta il menestrello Come fa non servire a niente Uno col penno così Ma cosa fa Silenzio Dove è volato quello L'hai visto Il menestrello li attira tutti Poi con la ballista Zoom Li fa fuori Non ha capito che è un diversivo Tutti lo inseguono E gli altri possono attaccarli Senza ricevere danni Senza essere presi Perché lui scappa via E non si fa prendere Ma sei incastrato Ma no Ma dai Ma chi suona adesso le serenate Sparate Con i serpenti Siete ignoranti Come delle capre Allora ci sono dei problemi Ma è cattivo così dottor Ah stia tranquillo Vedrà Vedrà che roba A parte che è anche più veloce La catapulta Spari Non becchi il menestrello Boom Bravo Moby Moby Perfetto Spara 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 Ce la fa Sì ok Vai Colpisci Spara No È morto Lei è un asino No Sì ma dove spara Questo Ma dai Ma il menestrello Mi fa morire Non per dire Ma queste balliste Mi siano un po' utili Lei si deve vergognare Non è capace di fare niente Anzi si intrampola Sulla sua ballista Corri per se vince Facile Non li ha voti contro Morti No però meglio sbloccate lo stesso Per loro va a finire male Il Reaper li fa fuori tutti È un po' fortino il Reaper Un pochino È troppo Guardi Volano Ce li ha in mano No voglio farli fuori Con le truppe che già abbiamo Perché il Reaper c'è Dai dottore ma è sbroccato È un po' fortino Sì Dottore ha la catapulta di zucca La vista No vabbè Vuole lanciare le zucche E' al pionieri E' al pionieri Ok capitano Acab Ecco Io sparerei qualche serpente Non le servono a niente Ma rompevano un po' Non le scatole No menestrello Poi puoi mettere dei Dei saltimbanchi Sia tranquillo Cosa fanno i saltimbanchi Ma questo non sa anche Ma guardi come si muovono questi Guarda la catapulta rimbalza il coso Guarda la catapulta di zucca Si è forte Cosa fa Ma non lo tirare Che vai a finire male Cosa fa È tipo mosse di judo Non lo so Allora io direi che sia Una roba al quanto Cioè insomma ci siamo Il livello di demenza è piuttosto alto Dov'è il menestrello? Sparate Tirate le pozioni Non contro i vostri Contro i loro Guardali che roba Ma scusami Ma che truppe sono Troppo forti Adesso Dottore Contro chi deve andare? L'uomo del nulla Magari sono dall'altra parte Esatto non li avevo visti Allora abbiamo Degli scemi Gli scemi sul traliccio Ma cosa fa Ma muoiono subito Ma sta scherzando Ma cosa attacca? È un pittore Ma cosa fa il pittore? Attacca col pennello Io ci credo Sono storti Guarda come girano Guardali Potenza di Da Vinci Colpisca col pennello Lo infilzi Lo spennelli Non si faccia molestare Mi tromba il pittore Lo tira per il coso Ma cos'è? Dottore Le sta prendendo tantissimo Guardi Cioè Uno l'ha già messa a peccola Ma stiamo scherzando Ma picchi col pennello Ma cosa è scherzando? Ma stiamo scherzando Col pennello Gli fai così in faccia Lei metta un menestrello E metta un forcaiolo Eh ma non è abbastanza Un uomo delle forche serve Un pittore L'ha appena usato il pittore Non serve a niente Io ci credo nel pittore Per me il pittore Può dare grandi risultati No È lui il nostro uomo È Sarissa Guardalo qua Sarissa Ma ha bevuto Dottore ma ha bevuto Eh vabbè Lascia che faccia Ma cosa lascia che faccia Sarissa non ti incastrare con la lancia Va avanti È strabico Allora è ubriaco Ma non vengo ubriaco Fai qualcosa Sarissa Sei un cretino Ma lo stanno prendendo per il barbagallo Dottore ma guardi Che lo tirano per l'oca Sarissa sei inutile Questo qua Le vengono 50 Con 50 cosa puoi prendere? Un salto in banco Vai Quando le vedrà quante forti Il forchiere dirà Corbezzo di quanto sono stato scimmia Non ascoltarla Ma l'ha già ucciso Ah no ecco Ma cosa sta facendo? No ha perso Ma stiamo scherzando? Ma sono due demoni Quei cosi lì Io non ho parole Cioè più difficile è questo Che tutti quegli altri Voglio il derby Rossi contro blu E uno dei compagni di sborgne No Ma non capisco Fa dei versi che sembra Che si stiano stuprando Uno con l'altro State calmi Allora A questo momento difficile Possiamo notare E come i rossi Stanno cercando di montare I blu Che alla loro volta Cercano di montare i rossi A suon di calci Perché è morto il mio? Ma veramente No ma è una roba Che è allucinante Allora È truccato È truccato questo combattimento Allora mi sono girate le palle Ci mettiamo questo E vediamo un attimo Cosa ci salta fuori Vada Ma l'arciere Non posso prenderlo Perché potrei prendere Anche un arciere No ma aspetta un attimo Lo può usare anche lei No ma stiamo scherzando No vabbè Dottore così Ok così ci sta No Mollatemi Dottore le tirano al culo Vada via Basta No vabbè Ho questo tipo di cose Sono fastidiosissimo Dai Uccidi lì Fai qualcosa Oh Però non muoio mica Sono troppo forti L'ho morto L'ho morto Accolpalo No vabbè No dottore È troppo forte È quasi morto dottore Sì Mamma mia Sì ce l'ha fatta Ma è il diavolo È il diavolo Sono moddati Quelli sono moddati Non è normale Cioè ma io posso prendere parte Il combattimento Ma stiamo Oddio Dottore le mette la catapulta Più indietro No Loro No no peggio Ragazzi serpente Così Ma perché Perché sì Bravi Non sprecati i serpenti Non sprecati i serpenti Ci saltano contro i serpenti Però non sembrano molto efficaci Aiuto Aiuto Eh dottore mi sa che la orgia Non vuoi finire nel mulino Sono vivo Prendi il serpente Esci fuori No 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 Non ci finirò Io non ci finirò Sono morto Ok allora Arrivederci Spara A me finisce male Ma pensa No Cos'è sto ingroppata Mi molli Mi molli Niente C'hanno una prediligenza Per le parti basse Niente Non mi molla Non mi molla Aiuto Aiuto Ma cos'è Ma cos'è Dai Allora Non contro i miei Il corvo Mi raccomando Non contro i ragazzi di fieno Vada Ecco Bravo Guarda sti passeri Guarda sti passeri Guarda sti passeri Guarda che ro... Ma i ragazzi di fieno Sono incredibilmente forti Ma i ragazzi di fieno Sono troppa roba Cioè guardali che tappo che fanno Sono incredibili Sono incredibili Gli uomini ballone Sono veramente la rivoluzione Di questo gioco Menestrelli Secondo me ti te le fanno un bait I ragazzi scemi Eh provi dottore Ragazzi scemi vai Allora potrebbe finire male Beh questi sono scemi Volano di sotto Secondo me Eh ma secondo me Volano anche lei di sotto No no Lei si deve fidare Lei si deve fidare Lei non deve avere preoccupazioni Quando c'ho sti cosi qua Perché sono molto seri Guardi Vedi che scappano via Che hanno paura Non andate di sotto Per l'amor di Dio Cioè dovrei vincere in teoria In pratica non lo so A meno che non si vadano a buttare di sotto Ma in teoria Cioè Allora Un combattimento molto avvincente Si dice che 300 No il film con Leonid eccetera Si è ispirato a lotta Ragazzi scemi contro Menestrelli Si si proprio così Vedo proprio del live Tanno delle craniate Un è morto Un è morto Ok Boom Allora Io direi una cosa Per oggi basta La prossima volta Avremo contro L'intera tribù Io direi che Possiamo lasciarci così Prossimo episodio Meneremo Gli stregoni indigeni Commentate sotto Così con le corna Perché appunto Questi sono armati di corna E dottore Un anticipo Lei cosa pensa di utilizzare Nel prossimo episodio Per battere questi Il pesce persico Di mia madre Ne ero sicuro Guarda qui AAAAAH Aaaaaaah!